Sarà un congresso dove il tema della lealtà sarà il tema portante di questi tre giorni. Nel congresso si evidenzierà anche come la lealtà ci permette di avere anche dei vincoli familiari stretti, mantenere anche dei buoni rapporti con gli amici, con il prossimo in generale. Si presume una presenza per il primo congresso che sarà la settimana prossima dal 17 al 19 di 3.500 presenti, ma per una totalità di circa 15.000 presenti a Caltanissetta, che è il nostro luogo dove terremo questi congressi, nei cinque fine settimana in cui verrà tenuto. Ci saranno 49 interventi su questi tre giorni, corredati con circa 35 video. Una novità anche negli ultimi tempi che stiamo adottando sono anche dei film. Ci saranno due film, uno che verrà proiettato il sabato e un altro la domenica, incentrati proprio sulle figure, uno di Job in chiave moderna e un altro in Re Ezechia, proprio in chiave storica. L'obiettivo principale è proprio quello di aiutarci a capire il valore pratico della Bibbia in relazione alla lealtà.